Se avete bisogno di account modati o account glicciati oppure aggiunte di denaro in contatti su PS4 Oppure servizi di recovery su PC ad un prezzo decisamente moderato da persone serie, oneste e competenti Potete contattarmi ad uno dei contatti che trovi in descrizione come Telegram oppure Instagram Tieni la calma Willis Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui nel mio canale Io sono Griggs, oggi ragazzi sono qui per fare un video di informazioni Questa volta sarò più chiaro Comunque ringrazio tutte le persone che hanno guardato il video di ieri Purtroppo ragazzi non sono riuscito a darvi molte informazioni perché comunque era sera tardi Lì per lì l'argomento non mi è saltato fuori ok Oggi invece sto un po' più lucido e cercherò di essere più chiaro per dare informazioni riguardo il nuovo DLC che sta per arrivare Ovvero DLC Kai o Perico Aist Sia chiaro in questo video andremo a speculare quindi saranno solamente miei pensieri A riguardo di cosa si potrà fare nel nuovo DLC Quindi niente ragazzi prima di iniziare sapete già cosa fare mi raccomando lasciate un bel Polish Hansons in su Iscrivetevi al canale attivando la campanellina e detto questo possiamo subito iniziare Allora come vi ho detto nel video di ieri molte persone insomma stanno speculando riguardo questa mappa Dovete sapere che nella community ci sono due persone più precisamente due data miner Ossia sarebbero praticamente delle persone che possono scoprire informazioni segrete riguardo Roxar Queste persone molto spesso si sono rivelati affidabili perché negli anni precedenti hanno scoperto appunto molti DLC in anticipo Perché vi dico questo? Perché durante il video andrete a capire di cosa sto parlando Quindi per iniziare come vi ho detto insomma nel video precedente Roxar per creare questo DLC hanno preso spunto da una cosa che hanno fatto su Red Dead Redemption 2 Ossia praticamente durante la storia hanno creato un'isola chiamata l'isola di Guarma Che è questa che state vedendo nel video Però il problema è che Roxar ha creato questa mappa solo per fare alcune missioni Per un totale di circa due ore di gioco Chiaramente se ci giocate a questo gioco la potrete esplorare fino a che chiaramente non concludete la missione Roxar ha fatto un bel lavoro onestamente Ha creato quest'isola con molti dettagli Tutta perfetta Però solo per un piccolo capitolo della storia Quindi quello che voglio dirvi è che secondo me su queste console attuali Quindi PS4, Xbox One Vedremo una cosa simile Anche perché come ben sappiamo quando per esempio su PS4 Non so voi ma a me succede molto spesso Del tipo spawn all'evento business con la porta aerei Il gioco inizia a laggare nonostante ci siano anche poche persone nella sessione Roxar non rilascerà questo pezzo di mappa totalmente esplorabile in free mode Almeno sulle console attuali potremo usare questo pezzo di mappa solamente durante il colpo Adesso vi spiegherò il perché Comunque ha fatto un bel lavoro Roxar per lasciare appunto questo pezzo di mappa Su Red Dead per una sola missione non trovate A quanto pare ragazzi invece si Roxar purtroppo molto spesso fa questa cosa Crea pezzi di mappa con molti dettagli Per lasciarli solamente in un paio di missioni Ne è la prova anche il fatto che su GTA esiste anche il paese di North Yankton Nel quale durante la storia possiamo fare due missioni Chiaramente adesso non è molto dettagliato come potremmo aspettarcelo Ma ovviamente ragazzi nel 2013 quando uscirono ovviamente le prime versioni di GTA 5 Su PS3 Xbox 360 era molto dettagliata la mappa Quindi questo mi fa pensare a una cosa simile Che potranno fare con questo DLC Decaio Perico Heist E adesso vi spiego il perché Su GTA forums un utente ha fatto questo sondaggio Dove chiede Secondo te il nuovo pezzo di mappa sarà accessibile totalmente in free mode? Sì sicuramente Sì con una schermata di caricamento No solamente per il colpo Oppure altro Specifica nei commenti Poi è stato chiesto Quando sei nel nuovo pezzo di mappa Pensi che si potrà liberamente esplorare? Sì sicuramente Sì ma solamente in certi limiti insomma della mappa No proprio come Guarma in Red Dead 2 Oppure no Specifica nei commenti E volete sapere cosa ha risposto questa persona di cui vi ho parlato prima Ovvero questo dataminer Il cui nome è Jan2295 Ovvero una persona che negli anni precedenti ha scoperto anche tante altre informazioni segrete di Rockstar Come anche nuovi DLC in anticipo Dannazione Guardando i risultati del sondaggio Sembra che un botto di gente resterà delusa Questo commento sinceramente mi fa pensare come se fosse una conferma ufficiale In quanto questa persona io la reputo abbastanza affidabile Comunque chi segue gli youtubers che trattano video informazioni di GTA Lo saprà sicuramente perché pochissime volte possiamo dire che questa persona ha fatto cilecca E quindi penso quasi sicuramente che questa sia una risposta ufficiale Che almeno attenzione a mio parere Almeno sulle console attuali non potremo avere questa mappa in free mode Sempre questo Jan2295 Ha scritto questo post pubblicato su un forum chiamato GTA forums C'è solamente una cosa che mi piace della mappa di GTA 5 E sono i paesaggi Landscapes appunto in italiano sarebbe paesaggi Se notate bene la scritta ISLAND Ha un font diverso dalle parole che compongono una frase Quindi è inutile che stia qui a dirvelo Insomma ci sarete arrivati da solo Che cosa vuole farci capire con questo? Vuol dire che lui già dal 3 ottobre aveva trovato questo DLC Nei files del gioco E quindi questo io penso che sia una conferma ufficiale Che la mappa di GTA Online del nuovo DLC Non sarà esplorabile in free mode Ma solamente durante il colpo O almeno per quanto riguarda le console attuali sarà così Sicuramente molti pensavano che la mappa sarebbe stata accessibile in free mode Ma considerate che già adesso con le prestazioni di PS4 E Xbox One che ci ritroviamo Fanno un po' fatica Soprattutto nelle sessioni pubbliche con tanti giocatori Quindi non oso veramente immaginare cosa succedesse alle console attuali Se Rockstar decidesse di introdurre questo nuovo pezzo di mappa su GTA Online Nelle sessioni pubbliche Sarebbe veramente ragazzi un casino totale Riuscire a mantenere la stabilità della connessione delle console Sarebbe veramente ragazzi un problema Se ci pensate bene durante il trailer possiamo vedere un'immagine Che rappresenta praticamente un'entrata in questa isola chiamata Cayo Perico Se notate bene la scritta Bienvenidos a Cayo Perico È simile come detto nel video precedente ad una locazione che si trova in Colombia Ed è questa qui di cui vi ho parlato anche nel video precedente Ossia questo ingresso di una tenuta chiamata Hacienda Napoles Ora non so se si pronuncia così E questa tenuta non è altro che la vecchia tenuta di Pablo Escobar O per meglio dire quello che era la tenuta di Pablo Escobar insomma Se guardate bene ragazzi la somiglianza è veramente tanta E quindi credo che vedremo un DLC ispirato più o meno a una cosa del tipo Narcos Magari organizzando il colpo dal sottomarino E adesso ci arriveremo Dovremo arrivare su questa isola tramite il sottomarino E per iniziare il colpo dobbiamo passare da questa cosa Per andare ovviamente a rapinare il probabilmente comandante Dell'associazione chiamata El Rubio Che appunto conterrà questi oggetti scritti da Roxar Come arte, quadri e tanto altro E quindi a quanto sembrerebbe Se Roxar ha voluto fare una cosa in stile Narcos Probabilmente questo nuovo pezzo di mappa si troverà in Colombia Che geograficamente parlando si trova in tutt'altra posizione Rispetto alla mappa di Los Santos E questa io la prendo come un'altra ulteriore conferma Anche perché se guardate bene nel trailer Non si vede minimamente Los Santos E quindi probabilmente non potremo avere questo pezzo di mappa Esplorabile in free mode Altrimenti insomma Roxar avrebbe mostrato Almeno che ne so un aereo che tornerebbe a Los Santos Se invece no E quindi questa ci fa capire che probabilmente Roxar ha preso spunto dalla Colombia Più precisamente da questa località presente nella Colombia Ossia la Sienda Napoles Per creare possiamo dire la tenuta di questa associazione chiamata El Rubio Per andarla a rapinare E quindi faremo il colpo su questa isola Però molto probabilmente non sarà accessibile in free mode Quello che penso io quasi sicuramente È che se Roxar ha voluto lanciare un altro GTA V Sulle console next gen Quindi PS5, Xbox Series X Con la versione finale del gioco Lì magari probabilmente potremo vedere questo pezzo di mappa incrementato Altrimenti se ci pensate insomma ragazzi Che senso ha rilanciare su nuove console Con prestazioni veramente molto potenti Un altro GTA V Mi fa pensare quindi che questa cosa Era già in progetto da Roxar Games Da un bel po' di tempo Altrimenti ragazzi insomma che senso ha? Io non riesco a trovare un altro senso Se notate bene nel post di Roxar Games Non viene minimamente menzionato Il fatto che appunto la mappa sarà esplorabile in free mode E quindi questa è un'altra conferma Che ci fa capire che sicuramente Almeno sulle console attuali Ripeto Non potremo avere questo pezzo di mappa Su GTA Online in totale libertà Non avendo Roxar menzionato il fatto Della mappa che sarà esplorabile in free mode Lo prendo proprio come una risposta negativa Appunto alla domanda che molti si stanno chiedendo Ovvero se potremo appunto giocare in free mode Con questa mappa Altrimenti non dico che Roxar l'avrebbe esplicitamente insomma scritto Ma comunque l'avrebbe fatto capire Se notate bene appunto nel post Non c'è scritto minimamente questa cosa Un'altra conferma Che ci fa capire Che la mappa non sarà accessibile In free mode Almeno sulle console PS4 e Xbox One E questo post scritto sempre dal nostro zio Jan2295 Che ricordo è una persona abbastanza affidabile In passato ha già liccato Ovvero ha pubblicato notizie e informazioni Che molti ritenevano fossero fake Ma alla fine si sono rivelate affidabili Uno chiede su Twitter Insomma gli scrive Jan pensi che la nuova pezza di mappa Sarà accessibile in free mode Nel nuovo aggiornamento di GTA Online E lui appunto scrive Guarda mi piacerebbe che fosse così Ma a quanto pare per via delle limitazioni Come anche le prestazioni delle console attuali PS4 e Xbox One Non sarà possibile accedere in free mode A questo nuovo pezzo di mappa di GTA Online Più o meno fa capire che la risposta è negativa Ok? Purtroppo non molti sono abili con l'inglese Comunque in sintesi Questo è quello che ha scritto in questo post Quindi raga Fatemi sapere la vostra Purtroppo Molti si aspettavano che il nuovo pezzo di mappa Sarebbe stato introdotto su GTA Online A quanto pare Purtroppo ragazzi non è così Ora passiamo al prossimo argomento Ovvero il sottomarino Allora come vi ho detto Anche nei video precedenti Il sottomarino sarà una specie di sala giochi Però non guidabile da giocatore Io purtroppo avevo detto che probabilmente si poteva guidare A quanto pare non è così Per il semplice fatto Che anzitutto Come vedete da questa foto Si potrà comprare Penso quasi sicuramente Sul sito di Mates Bank for Closers Chiaramente ragazzi la foto è stata modificata È giusto per rendere l'idea Quindi per come la penso io Metteranno il sottomarino su Mates Bank for Closers Avrà questa icona verde nella mappa Con l'ancora Per quello che penso io Sarà una specie di sala giochi Quindi dovremo Obbligatoriamente comprare Questo sottomarino Per organizzare il colpo In quanto Roxxar dice che ci sarà Un nuovo sistema Per appunto organizzare i colpi Sarà in grado di usare armi Però non potremo guidarlo O almeno per quello che sappiamo Noi al momento Non potremo guidarlo Sarà una specie di yacht Però dove appunto Potremo organizzare il colpo Per quanto riguarda il prezzo Più o meno il prezzo è questo Ragazzi di circa 7 milioni Non credo di star sparando una cagata Anche perché Molte persone Fra cui anche questo Yan 2295 Pensa che quasi sicuramente Il prezzo Per comprare un sottomarino Per organizzare questo colpo Sarà intorno a questo prezzo Senza considerare le modifiche A quanto pari I prezzi sembrerebbero affidabili Anche perché sappiamo Ormai come Roxxar Mette i propri prezzi Quindi insomma Se non hai milioni Non puoi goderti Il GTA online Possiamo dire no? Quindi come potrà funzionare Il sottomarino? Secondo me ci sarà Tipo un capitano Dove Chiedendo al capitano Di far spostare Il sottomarino Lui lo andrà a spostare Ci sarà una specie di Cutsing O qualcosa del genere Per appunto Spostare il sottomarino In un'altra zona Ora non si sa Se potremo Che ne so Tipo attivare Il pilota automatico Dal menu interazione Per usare le armi Purtroppo non lo so Anche perché nel trailer Viene mostrata un'immagine Con tre giocatori Di cui uno sta usando La torretta Quindi penso che Liberamente sarà esplorabile Ma non potremo guidarlo Come Roxxar scrive Insomma nel suo post I giocatori potranno Organizzare il colpo Tramite il sottomarino Che fungerà da quartier generale Quindi questa la prendo Come una conferma Che appunto Se non abbiamo il sottomarino Non potremo organizzare Questo colpo Purtroppo non sappiamo Se potremo guidarlo Ripeto Non lo so Però ci sono molti indizi Che non lo fanno capire Ok Ci sono molti indizi Anche collegati Con il DLC Molti stanno parlando Di un DLC nautico E sinceramente Quello manca Forse questo Si collega anche al fatto Che giovedì scorso Roxxar ha messo in sconto Tutte le barche Del gioco Compreso lo yacht Quindi che cosa significa Secondo me Ripeto Oltre al sottomarino Le aggiunte I DJ Le canzoni Eccetera Potremo forse comprare Una proprietà Dove modificare Le nostre barche Anche perché Se notate bene Vi metto qui ragazzi Un'immagine Possiamo vedere ragazzi In questa immagine Una barca Che sarebbe nient'altro Il dinghy Però con una torretta Quindi penso che Potremo comprare Il dinghy Portarlo magari In questa officina Delle barche E modificarlo Mettendo la torretta Oppure si potrà Comprare direttamente Con la torretta Sul sito Delle barche Il prezzo Penso quasi sicuramente Sarà questo Ovvero 1.200.000 Gli altri veicoli Invece che si potranno Comprare Penso quasi sicuramente Sul sito di Warstock E Genshine Carry Saranno L'HVY Aviatrack Ora non si sa Se il nome Effettivamente sarà questo E anche il Patriot Armato Come vedete I prezzi Dovrebbero essere Questi all'incirca Chiaramente Anche questa foto È stata modificata Con Photoshop Per ovviamente Rendere l'idea Che poi Che cazzo mi metti Un dinghy armato Cioè già il dinghy normale Fa schifo La torretta farà schifo Altrettanto Cioè saranno stupidi I giocatori che compreranno Questo dinghy No? Molti la penseranno Come me E allora vi starete chiedendo E quindi perché Stanno facendo I lavori Al casino Cioè che cosa c'è di strano A quanto dice Rockstar Scritto sempre nel post Questo riguardante Insomma la notizia Del DLC Scrive che ci sarà Un luogo di aggregazione E questo mi fa pensare Appunto alla stanza Del casino Altrimenti che senso Avrebbe mettere Dei lavori al casino Se tanto dobbiamo Comprare un sottomarino Per fare il colpo Cioè come fosse Una sala giochi Che se non hai Una sala giochi Non puoi organizzare Il colpo Al casino Il fatto del DJ E di questo luogo Di aggregazione Mi fa pensare Al fatto che al casino Quei lavori Che stanno facendo Sarà una specie Di discoteca Dove i giocatori Potranno entrare E incontrarsi tutti lì Quindi potremo fare missioni Come per esempio Il nightclub Dovremo recuperare Appunto questi DJ E portarli Nella stanza del casino Questa è l'unica teoria Che mi viene in mente Altrimenti che senso Avrebbe insomma Creare un pezzo di mappa Iniziando i lavori Dal casino Quindi secondo me Sia chiaro Sono miei pensieri Quello che stanno facendo Al casino Non è nient'altro Che una nuova stanza Dove i giocatori Potranno incontrarsi Si potranno assumere Novi DJ Da far suonare In quella stanza Altrimenti Non vedo altra teoria Sul serio Anche perché Se prendiamo La cartina Del casino Che sarebbe Questa qui Che vi metto nel video Se noi appunto Prendiamo ragazzi Questa cartina E aggiungiamo Questa locazione O per meglio dire Questa immagine Ecco che Insomma possiamo Vedere su gt online Quando appunto Siamo in una proprietà Quindi quelle rettangole Eccetera Se noi prendiamo Questo rettangolo E lo mettiamo Insieme alla cartina Della mappa del casino Come potete vedere Ragazzi Centra a pennello Centra a pennello E quindi Questo mi fa pensare Come appunto Scrive il modder Che nei files di gioco Siccome è stata trovata Questa icona Raffigurante Come potete vedere Anche un ascensore E una porta Questo sarà Il luogo di aggregazione Dove appunto Ci si potrà incontrare E fare festa Con gli amici Quindi Penso sicuramente Che noi Entrando in questa stanza Del casino Si potrà dare inizio A una specie di discoteca Ok Questa è l'unica teoria Che mi viene in mente Purtroppo Non so se molti Ve ne hanno parlato Comunque Volevo che lo sapeste Di questa cosa Cioè nel senso Perché Rockstar Avrebbe dovuto scrivere Nuovi DJs Cento nuove stazioni radio E questo luogo Di aggregazione Non è nient'altro Che un punto Di intrattenimento Che verrà introdotto Con il nuovo DLC E quindi questo Punto di intrattenimento Chiamiamolo così Per comodità Mi fa pensare appunto A quello che stanno Facendo al casino Quindi lavori Per creare una stanza Dove ci si potrà Incontrare E magari Assumere un DJ Che potremo recuperare Magari facendo missioni Direttamente da quella stanza Perché raga Se il sottomarino Fungerà Da tipo sala giochi E il casino Non c'entra Che senso ha Iniziare a Possiamo dire Avvertire O meglio A comunicare Ai giocatori di GTA Online Che ci sarà Un nuovo DLC Partendo appunto Da dei lavori Sospetti al casino Questa è l'unica teoria Che mi viene in mente Poi ovviamente Fatemi sapere la vostra Comunque volevo Ricordarvi ragazzi Di lasciare un mi piace Che alla fine Non fa male Anche se non siete iscritti Al canale Questi video di informazione A me viene difficile Farli ma Oggi ero un po' più lucido E insomma Spero di avervi dato Quante più informazioni possibili Quindi mi raccomando Lasciate un mi piace Per supportare lo zio Griggs Detto questo ragazzi Per favore lasciate un mi piace Che a me fa veramente tanto piacere Iscrivetevi al canale Attivando la campanellina Mi raccomando ragazzi È molto importante Vi ricordo che se volete Prepararvi al meglio Al nuovo DLC Potete contattarmi Per l'acquisto Di un account moddato Aggiunta di soldi E deluxo Nel vostro account Al momento ci sono gli sconti Ragazzi 100 milioni A solo 30 euro Incluso al sabbataggio moddato Quindi io direi Di approfittare Fossi in voi E niente Mi raccomando Seguitemi su Instagram E nel nuovo canale Gruppo Telegram Da Cricks è tutto No ci sentiamo Al pro No che spia Che cazzo So a di fefe Fermi tutti Fermi tutti Da Cricks è tutto Noi ragazzi ci si becca Come al solito Con un prossimo video Prossima live Un prossimo glitch Bella way you Ciao 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 Grazie a tutti.